ecco in bangkok c'è la sua isola pesci giganti in acqua sono belli però la donna mia sono se bantoni e il vicepreso di bangkok il vicepreso di bangkok prima andata che accorgi in tutta tranquille è bello farà sei fuori dal casino alla fitte eccole qua praticamente c'è un vasaio c'è un negozio ehi guarda c'è un negozio lì c'è il vasaio ehi continuo il nostro tour dell'isola l'isola di Bangkok famosissima ovviamente alto giorno mercato e basta si si in teoria sei Bangkok in pratica un po' meno è un posto completamente indigeno raccolterò a te no capodanno 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 cos'è tipo una nave lunga nera trenonave non accorgono però sta arrivando da fuori non ci credo con l'alligatore con il coccodrillo un barana che cazzo sta fai non ci sto credendo non ci sto credendo girano il coccodrillo il coccodrillo il coccodrillo il coccodrillo ingabbiato non ci credo indo non ci sei non ci sembra non ci sembra che ci sembra però bisogna